Malcalcio, rinnovato entusiasmo a potenza per il primato in classifica dei Rosso-Blu nel girone H di Serie D. Un primo posto inatteso dopo le vicissitudini societarie dell'estate e il cambio di allenatore poco prima dell'inizio della stagione. Problemi che ora sembrano superati. Antonio Coronato. Una rosa incompleta ha campionato già iniziato. Un allenatore subentrato al precedente solo 5 giorni prima dell'esordio. Una squadra costretta a giocare le prime gare interne lontano dal proprio stadio. Sembra il lungo elenco di ragioni che spingono verso le secche del fallimento, ma le premesse a volte ingannano. E il bello del calcio, una bellezza che a potenza apprezzano, perché i Rosso-Blu dopo due giornate sono a punteggio pieno. Due vittorie per 1-0 a Manfredonia e contro il Cinzia, la porta inviolata, il primo posto in classifica, sono tutti segnali positivi. Ma a colpire è stato soprattutto il gioco dei Lucani. Mister Egidio Pirozzi appena arrivato ha saputo gestire i limiti di un gruppo incompleto e imbottito di under, valorizzando la coppia di centrocampisti esposito e dall'occo. Tempo e occasioni per crescere ancora ci sono. Al gruppo si sono aggregati nuovi acquisti Forgione e Verluschi e poi c'è la spinta dei tifosi. Un entusiasmo rinfocolato dai risultati, ma a dire il vero presente già da quando la società e i supporter hanno firmato una sorta di patto tacito basato sulla fiducia. I giocatori l'hanno ricambiata in campo e i dirigenti, per eliminare i malumori ed equivoci, hanno assicurato che rimborseranno gli abbonati e i minorenni erroneamente costretti domenica scorsa a pagare il biglietto d'ingresso. La prossima trasferta a Sansevero sarà un banco di prova impegnativo, in attesa del match del 25 settembre, quando al curcio di Picerno, campo neutro non si sa ancora per quanto, in attesa del completamento dei lavori alviviani, arriverà l'altra capolista tra Stevere e Roma. Una squadra nota per due ragioni, è allenata da Sergio Pirozzi, omonimo dell'Egidio Rossoblu e soprattutto sindaco di Amatrice, per ovvi motivi e al momento sostituito in panchina da un vice. E poi il Trastevere qualche anno fa ha tenuto a battesimo il calciatore quarantenne attualmente più forte al mondo, un certo Francesco Totti. Sono curiosità che ai tifosi del Potenza non interessano più di tanto, il fatto che si possa parlare di scontro al vertice invece alimenta grandi speranze.